Dopo il max intervento di rinnovo del presidio, con 6 milioni di euro destinati alle nuove sale operatorie e il piano di degenza, 840 mila euro per l'installazione della nuova risonanza magnetica, 500 mila euro per la seconda TAC, 125 mila euro per la parziale riqualificazione dell'area triage e 102 mila euro per la costruzione di una sala di gestione delle emergenze, l'ospedale di Saronno accoglie il nuovo direttore, la dottoressa Roberta Tagliasacchi, già responsabile degli ambulatori della Sette Laghi. Ho trovato una squadra di professionisti molto interessante, con grandi caratteristiche sia scientifiche che umane tali da mettersi in gioco per portare avanti e sostenere l'ospedale di Saronno nell'erogazione della sanità nel miglior modo possibile. Certo che comunque le eccellenze che io ho trovato e vorrò sostenerle è che saranno biglietto d'avvisi da non solo per la provincia di Varese ma anche per la provincia di Milano e per la provincia di Comon a noi vicine. La dottoressa Tagliasacchi ha capacità tecniche elevatissime e inoltre in aggiunta doti femminili squisite, ha una grande facilità alla comunicazione, è capace di gestire rapporti per condividere protocolli, linee operativi in modo tale da fornire assistenza sanitaria adeguata e moderna rispetto alle esigenze di ciascuno di noi come cittadino.